Come costruire un crypto portfolio partendo da zero. È da tanto che aspettavate questo video, lo so anche perché me l'avete chiesto, ve lo avevo promesso tempo fa con tutto quello che è successo, la situazione che abbiamo vissuto non era proprio il top parlare di questo topic e oggi invece mi è rivenuta la voglia diciamo perché io cerco di fare le cose anche perché mi va di farle altrimenti non sarebbe un piacere, non riuscirei a presentarvele nel modo in cui le presento di solito, quindi con una certa enfasi. Mi piace fare questo tipologia di contenuti, ovviamente è uno dei miei preferiti però bisogna anche andare a vedere quello che è il periodo storico. Adesso siamo in una fase in cui è veramente importante saper studiare, sapersi piazzare perché? Perché un po' possiamo vedere e fare un parallelo con quello che successe nel 2016, ossia l'anno che fu l'anno precedente alla grande bull run, in realtà al grande bull market che c'è stato, l'ultimo che c'è stato. Allora non vorrei dire che l'anno prossimo sarà sicuramente così ma ci sono delle probabilità che questo accada, allora a questo punto come approfittare al meglio di un eventuale bull market? Bisogna costruire un portfolio, cioè una distribuzione dei propri asset in modo tale da avere più alte probabilità di raggiungere un approfitto, quindi di accrescere il controvalore del proprio portafoglio. Oggi cercherò di illustrarvi senza fare consigli finanziari quella che è una mia idea, se io dovessi partire da zero ad oggi con la premessa che ogni periodo è a sé, quindi in questo momento qui io farei un portafoglio del genere se dovessi partire da zero, magari lo andrai poi ovviamente a modificare. Questo mondo evolve talmente tanto in velocità che se state guardando questo video magari a distanza di sei mesi o un anno probabilmente mi potreste dire no ma come mai non hai inserito questa moneta o perché hai inserito quest'altra? Beh da qui a sei mesi potrebbero cambiare talmente tante cose, però oggi vorrò fare un'introduzione e questa è una linea guida il più sostenibile, il più solito possibile anche a lungo termine. Partiamo subito senza perdere tempo, come inizierei? Innanzitutto inizierei, vi sto facendo vedere CoinMarketCap e bisogna valutare il peso specifico anche in base alla capitalizzazione, quindi non conta guardare, questo è un errore che si fa specialmente se si è principianti, guardare una moneta che magari ha un controvalore basso, guardiamo ad esempio, vediamo la prima che ha un controvalore sotto il dollaro. Qui abbiamo Stellar, quindi XLM, vale 7 centesimi, allora visto che vale 7 centesimi ancora ne posso comprare tante o anche Cardano o ADA che non so perché ho saltato, allora ne compro tante di queste perché vedi le altre già sono alte, se vado a vedere Ethereum è già arrivato a 233 dollari. Ovviamente questo è un discorso banale che non vorrei neanche rifare, bisogna considerare la capitalizzazione di mercato che è calcolata dal prezzo per singola moneta o singolo token moltiplicato per il quantitativo circolante. Quindi fare questa moltiplicazione e vedere la capitalizzazione, è per questo che Bitcoin capitalizza tanto perché sì è vero ha un valore alto ma non siamo obbligati a comprarne uno intero, possiamo comprare anche delle frazioni di esso e bisogna considerare che il suo circolante è bassissimo, ci sono solo al momento 18 milioni e 400 mila circa Bitcoin e bisogna considerare che tanti di questi sono andati persi. Allora iniziamo subito da Bitcoin, questo lo dovete aspettare, non può esistere un cripto portfolio che non parta da Bitcoin, se qualcuno entra in questo mondo e inizia a comprare un altcoin prima di Bitcoin sta facendo un errore che in tanti hanno fatto di cui ci si può pentire amaramente. Perché? Perché Bitcoin come visto è quello che capitalizza più di tutti ma non è l'unico motivo per cui bisogna partire da Bitcoin, il motivo è proprio un fattore di rischio. Qui stiamo parlando già di un portafoglio stravolatile, che cosa vuol dire? Che questo portfolio qui, questo asset allocation, questo tipo di investimento se vogliamo vederlo così varierà nel controvalore in dollari o in euro tantissimo. Quindi se avete un tracker che può essere il blocfolio, io qui vi sto facendo vedere Delta che è un altro, ce ne sono diversi. Che cosa servono i tracker? Proprio per vedere quanto varia un portafoglio, quindi andate a segnare quello che avete comprato, vi fa vedere il controvalore, avete un'idea di quanto il vostro portfolio cambia nel tempo nel controvalore in dollari. Potete vedere anche le percentuali, adesso vi farò vedere un po' di cose. In questo modo qui voi vedrete che il portfolio andrà a variare tantissimo, quindi il controvalore cambierà continuamente e se siete attaccati al controvalore in dollari e non guardate il quantitativo che avete, beh soffrirete tanto il mal di mare di questa alta allenanza. Questo è un settore per cuori forti diciamo e se non lo si è partire da un qualcosa che non è Bitcoin fa ancora più male. Perché? Perché Bitcoin non solo è quella più capitalizzata, ma come detto ha un circolante di massimo 21 milioni totali, quando questo sarà arrivato al suo massimo. Al momento ci sono 18.406.918 Bitcoin circolanti. Di questi tanti sono andati persi, tanti sono in wallet che probabilmente non verranno mai mossi, mai toccati, sono dormienti da anni e anni, alcuni da più di 10 anni. Per questo motivo, secondo me, bisogna partire dal fatto che il primo target da settarsi prima di fare qualsiasi altra cosa è arrivare ad un Bitcoin. Sembrerà tanto, sembrerà un valore esagerato, ma se si vuole entrare in questo settore e si pensa di entrare su Alcoin, quindi su altre monete, senza essere arrivati a un Bitcoin, secondo me si sta facendo un grave errore di valutazione e si sta scommettendo un po' troppo. Ovviamente questa è una linea guida, quindi poi ognuno fa come gli pare. Però io dico questo, perché? Perché qual è il discorso risk-reward? Se si investe in Bitcoin, si ha un vantaggio rispetto alle altre. Se Bitcoin dovesse crollare, se Bitcoin dovesse fallire, tutto questo ecosistema, questo che leggiamo, CoinMarketCap, il mondo delle cripto, la blockchain, la DeFi, crollerebbe tutto. Andrebbe tutto probabilmente a zero, difficilmente qualcosa potrebbe sopravvivere al fallimento di Bitcoin. Ho già fatto dei video su come Bitcoin potrebbe fallire, ve lo linko, ci sono probabilità basse ovviamente, ma ci sono delle piccolissime probabilità, che non possiamo escludere, dobbiamo essere razionali. Se voi andate a prendere un'altra moneta che non sia Bitcoin, anche Ethereum stesso, il rischio che questo possa accadere è molto più alto. E che cosa succede però? Qual è la grande differenza? Che se fallisce Bitcoin fallisce tutto il resto. Se fallisce Ethereum o fallisce la terza, Tether o fallisce XRP, non è detto che fallisca Bitcoin. Anzi probabilmente non lo farà, magari calerà in prezzo perché sono monete capitalizzate che portano un terremoto, uno scossone, ma non intaccano la vita, la vitalità di Bitcoin. Questa è la grande differenza, questo è meglio per cui io direi, primo partire con un Bitcoin, poi andando veloce, adesso cerco di accelerare un po'. Secondo target da settarsi, 32 Ether, 32 ETH. Lo so, sto parlando di target alti prima di muoversi sulle altcoin, ma qui non sto parlando di fare delle scommesse, di andare a scovare le hidden gems, le gemme per fare la scommessa e avere la svolta epocale. Non sto parlando di comprare il gratta e vinci, io qui sto parlando di andare a creare un portfolio che sia sostenibile in futuro. Perché 32 Ether? Perché Ether è la seconda moneta più capitalizzata, perché Ether è quella moneta che ha fatto partire l'ultimo bull market, quello del 2017, e che a mio modo di vedere farà partire il prossimo, quello del 2021-2022, vedremo quando. E perché su Ether si sta costruendo tantissimo, a partire dalla finanza decentralizzata, a partire dalla DeFi, che secondo me sarà proprio la scintilla che farà partire il prossimo bull market. Tanto si sta costruendo su Ether, tanto si sviluppa, e quello è il vero valore che c'è dietro, è uno strato sul quale vengono costruite tante altre cose sopra, e che quindi va a fortificarsi. Perché 32? Perché si parla tanto del passaggio ad Ethereum 2.0. A breve ci dovrebbe essere questa famosa phase zero, quindi la beacon chain, che consentirà di avere una fase che inizialmente sarà ibrida, perché sulla beacon chain avremo la possibilità di avere un consenso in proof of stake, mentre Ethereum rimarrà comunque con la convalida delle transazioni in proof of work, quindi mining. Ecco, con la proof of stake si avrà la possibilità, con un minimo di 32 Ethereum, 32 Ether in staking, di avere dei ritorni passivi, quindi avere un passive income. E questo è una chiave, perché un portafoglio che non produce nulla, che spera solo nella plus valenza, è un portafoglio comunque che perde tanto potenziale. A me piace avere un portafoglio che lavora, quindi avere dei soldi che lavorano per me nel tempo. Non voglio io convertire tempo per denaro, ma voglio che i soldi che ho, che siano esse cryptocurrency, lavorino per me, senza che io lavori per loro. Questa è la mia idea, quindi per questo inserisco subito questa idea. Ovviamente c'è anche modo di farlo con delle cose collaterali, anche su Bitcoin. Magari ne parleremo, proprio magari nella live di questa sera, di cui vi parlerò più avanti. Qualcuno adesso già potrebbe vedere il valore che c'è, quindi queste cifre così alte. Beh, ma questo è un target che una persona dovrebbe settarsi. E ovviamente adesso stiamo parlando di target più alti. Ovvio che è più allettante vedere la monetina dove si mettono 10 euro e se ne ha tante. Però si corre un rischio molto più alto. Vi sto parlando di un portafoglio strutturato e non di scommessa da bar. Sul finale vi dirò anche di come poter, in qualche modo, fare, senza, se non si ha la disponibilità a breve, di poter raggiungere certe cifre. Prima di andare avanti, voglio parlarvi di questa cosa qui. Questo è un hardware wallet, si chiama Engrave. Sto inserendo questo discorso in questo video qui perché è molto correlato. Perché se si ricostruisce un portafoglio, qualche parte dobbiamo custodire le nostre cripto. E come vi ho detto spesso, non è il caso di farlo su Exchange. Che dopo aver investito tanto, mettiamo probabilmente a rischio molto più della volatilità a tutti i nostri asset. Bisogna trovare il modo e studiare il modo per essere il più sicuri possibili. Perché il primo rischio che c'è nel settore è perdere le cripto per un errore, per un hacking o per qualcosa del genere. Allora, nel mio percorso ho sempre cercato di introdurre i migliori hardware wallet dell'ecosistema. Ho scovato quello che potrebbe essere il più sicuro in assoluto. E in questo momento qui ha una campagna di crowdfunding su Indiegogo. Che cos'è una campagna di crowdfunding? In pratica si contribuisce al progetto per poterlo realizzare. E questa campagna sta andando benissimo. Questo prodotto si chiama Engrave Zero. È questo hardware wallet che vedete nelle immagini. Ho avuto la possibilità di contattare e farmi anche una chiamata direttamente con il team di Engrave. Sono dei ragazzi che si trovano in Belgio. E sono dei ragazzi molto smart che stanno sviluppando qualcosa veramente fatta bene. Sapete che non mi espongo su queste cose se non ho una base tangibile e solita. Per quanto riguarda la sicurezza sono molto molto restrittivo. Ho deciso quindi di collaborare con loro con questa campagna Indiegogo. Quindi sto facendo questa collaborazione con questa campagna per poter appunto promuovere questo tipo di device. E vi spiego il perché. Questo hardware wallet è completamente offline. E aggiunge degli elementi che migliorano la sicurezza da un certo punto di vista. Che è semplicemente quello della... Semplicemente. Partono dal fatto della generazione... Della problematica della generazione delle prime chiavi. In tantissimi di voi mi hanno chiesto sì ma se la generazione della chiave su... Quindi parliamo delle 24 parole chiave che è quello che custodisce poi le cripto no? Che è proprio la generazione delle chiavi private. All'interno dell'hardware wallet. Come facciamo noi a essere sicuro che... Non so. Ledger non custodisca quel tipo di chiave. O che non ci sia una backdoor per poter entrare e vedere la generazione. Allora loro cercano proprio di aggredire questo aspetto. Innanzitutto il device come vedete è completamente slegato da qualsiasi tipo di cavo. Quindi funziona con un sistema di inquadramento di QR code. È completamente offline. Non si connette mai né con wifi né con Bluetooth né con cavo. Per la firma delle transazioni. Solitamente quando si genera una chiave privata si fa con un chip interno. Che randomicamente crea quello che è il nostro seed. In questo caso loro aggiungono anche dei fattori esterni. E questa è la svolta che c'è. Come vediamo anche brevemente da questa immagine ci sono ben due fattori esterni. Uno è l'impronta digitale. Infatti nel retro del dispositivo c'è un lettore per impronta digitale. E in più c'è anche un sensore per la luce. Quindi nel momento in cui il chip interno che magari potrebbe anche essere compromesso. Mettiamo il caso malevolo in cui un ledger abbia un chip compromesso. Magari hanno cambiato il chip. Magari c'è una backdoor nel device. Beh la generazione con la chiave potrebbe essere compromessa. In questo caso oltre alla generazione randomica si aggiunge anche altri due fattori. Che sono quelli dell'impronta digitale che è unica di chi utilizza il device. E in più della luce che arriva in quel momento al device. Quindi andando ad inserire questi elementi qui si genera un seed veramente randomico. Veramente univoco. Che neanche la casa stessa può più andare a rigenerare o comunque a ritrovare. C'è poi un altro aspetto che vi voglio far vedere. È quello che finito questo processo c'è tutta una fase in cui si ha questa generazione del seed. E noi stessi anche in un secondo processo possiamo selezionare e mischiare ancora una volta. Quella che è in questo momento qui che vi sto facendo vedere ora. Quella che è la chiave. Quindi possiamo selezionare e stoppare quando vogliamo la generazione delle 24 parole chiave. Che sono veramente randomiche. Vedete non sono delle parole con senso. Ma sono dei caratteri alfanumerici che si vanno a mischiare. Anche in questo modo possiamo fermare quando vogliamo noi la generazione. E poi selezionare quella combinazione che vogliamo. In questo modo facendolo noi stiamo praticamente unendo un aspetto decisionale nostro. Più un aspetto di generazione randomica. Questo e qui lo possiamo ancora mischiare. Vedete possiamo selezionare quelle che vogliamo. Questo rende questo key mixing che è offline. Questo dispositivo il più sicuro in assoluto. Perché questa cosa la fa solo questo dispositivo qui. Questa è la chiave di base che c'è. In più hanno aggiunto anche un'altra cosa che io vedo sempre problematica. Ossia la conservazione del pezzettino di carta dove scriviamo le 24 parole chiave. In questo caso abbiamo questa grafin. Ossia questa lastra metallica. In realtà sono due lastre. Una puntellata vedete con dei buchini. E l'altra sotto per andare a inserire questi pin. Noi una volta che abbiamo tutte le nostre parole chiave le inseriamo in queste due lastre. Che se separate l'una dall'altra non si ha idea di cosa siano. Infatti voglio farvi vedere una volta che si è puntellata la lastra superiore avremo una lastra inferiore con tutti questi buchini sopra che se non c'è il lettore sopra praticamente non si ha idea e non si può ricostruire le parole chiave. Questo sistema qui è stato votato con una sicurezza certificata EAL7 che è la più alta in assoluto del mondo cripto. Infatti andatevi a vedere vi lascio ovviamente come riferimento questa pagina qui. Ci sono i paragoni con Ledger Nano X e Trezor quindi il top di gamma possiamo dire. Ledger Nano X ha come certificazione EAL5+. Mentre Trezor non ha proprio questo tipo di certificazione e l'Engrave Zero ha una certificazione EAL7 che è il massimo assoluto che si può avere per una certificazione sulla sicurezza. Neanche le banche hanno questo livello. Bene questa è solo una breve mention ho intenzione ovviamente di prendere questo dispositivo adesso è ancora in una fase di raccolta quindi crowdfunding e sono in fase di production. Stanno producendo i dispositivi questi verranno consegnati a chi li prenderà a ottobre quindi a ottobre li riceveremo. Ci sono diverse offerte ovviamente in questa fase iniziale e ci sono tutte queste offerte che potete vedere direttamente da qui. Questi sono i vari perk ad esempio le combo con la lastra più il device e sono al momento con sconti fino al 40% perché sono appunto in fase di lancio. Questo è il prezzo per il singolo device a un prezzo più alto rispetto ai competitor ma appunto ha un livello di sicurezza in assoluto mai visto nel mondo cripto. E questo sappiamo che è l'aspetto più importante che c'è al momento sul mondo delle cripto la sicurezza. Inutile investire se non si ha un wallet sicuro trovate il link per vedere questa campagna Indiegogo e studiare da voi direttamente in descrizione. Torniamo al nostro portfolio allora un bitcoin 32 ethereum come costruiamo tutto il resto adesso andiamo a scalare un po' e risaliamo a livello di rischio nelle proprie disposizioni ma dobbiamo sempre bilanciarlo con quanto la capitalizzazione l'azienda e lo sviluppo dietro a termine monete sono andati avanti fino a questo momento. Allora con un budget che va in decrescendo e per certi motivi certe cifre ho associato certe cifre come ad esempio la prima che vedete è CRO. Sapete che la sto seguendo un po' in realtà in questa classifica adesso è salita perché il controvalore è già salito molto rispetto a quando ve ne parlavi all'inizio. In questo caso le prime due in generale sono CRO e Binance Coin quindi BNB sono due monete che dipendono molto dall'ecosistema cripto in generale. Non stiamo in pratica investendo più di tanto in una moneta e in un team che potrebbe o non potrebbe vedere realizzare la propria idea ma stiamo investendo in questo caso e distribuendo su delle aziende. Delle aziende che guadagnano se tutto l'ecosistema cripto cresce perché questi sono due settori, sono due servizi che vanno effettivamente a crescere se l'adozione cresce. È come quando scoppia la corsa all'oro e chi fa i soldi veri è chi vende i picconi. Ecco queste monete qui vanno a crescere se le persone entrano e cominciano a scambiare sui exchange. Adesso le cifre che vedete sono cifre tonde. Io metterei un 10.000 in CRO per iniziare, vi ripeto non sono consigli finanziari, è solo un'idea di come costruire un portafoglio. Un 50 BNB, più o meno adesso vedete che le cifre sono diverse, costerebbe molto di più avere un 10.000 CRO. 10.000 perché? Perché è il minimo per avere lo staking dal 20% annuale. 20% all'anno bloccati per 6 mesi sono una cifra che ci consente di avere passive income e avere un investimento che cresce magari nel tempo se l'azienda si comporta bene. Cosa che ultimamente sta facendo, tanto che ha anche raggiunto qualche giorno fa la top 10. Bisogna sempre andare a vedere la capitalizzazione, quindi la gerarchia deve essere sempre pensata in questo modo qui. Vediamo che Binance Coin è all'ottava posizione, quindi una delle monete più forti, ha dietro un'azienda come Binance che non si ferma mai. Sta continuamente sviluppando. Sullo stesso livello di investimento metterei più o meno una cifra, un qualcosina, in Chainlink. Perché? Perché se la DeFi esplode, e parlerò anche di tanto di DeFi, allora Chainlink crescerà. Perché Chainlink è al momento lo standard per gli oracoli decentralizzati e prendere dati off-chain. Cardano, sapete che mi piace tanto ADA? E se c'è un progetto che sta raccogliendo sviluppo, che sta sviluppando veramente in modo serio, accademico vorrei dire, è Cardano e ADA. Con un'idea di proof of stake, anche qui potenzialmente un passive income, che potrebbe superare anche a livello di efficienza e scalabilità e distribuzione, anche progetti molto più grandi. Quindi, 10.000 ADA, lì vorrei avere nel mio portafoglio variegato, 200 link. E vedete che procedo sempre con un certo ordine in base alla capitalizzazione. A questo punto ho parlato di bull market, se esploderà la prossima bull market grazie alla DeFi, secondo me un pensierino ad avere un maker intero bisognerebbe averlo. Perché maker si trova un po' più in basso, ma maker ha un circolo in supply di poco più di un milione di maker. Quindi pochissimo, si entra a far parte di un club veramente ristretto, che ha anche potere decisionale e voce in capitolo quando si decide un cambiamento sul protocollo maker. Perché questa è una DAO, cosa che già ho spiegato. E averne uno oggi, se dovesse esplodere la DeFi, non sarebbe male. È un'idea che io vorrei avere. Tornando un po' più su, ci sono protocolli che sviluppano in modo similare. Quindi anche qui, proof of stake, passive income, idea di functional programming come Cardano, più o meno. Infatti li vedete che sono molto vicini, Tezos e Caldano spesso si scambiano posizione. Stanno sviluppando entrambi molto bene, le collaborazioni crescono, anche la consapevolezza di chi compra queste monete. Quindi anche Tezos, cifra tonda, un 200 Tezos preferirei averli nel mio portafoglio. EOS, la più grande ICO di tutti i tempi. Sta sviluppando tanto, sta aspettando il lancio della sua piattaforma social di Voice. Qui, in passato, avrei forse investito un po' di più. Adesso gli sviluppi si stanno muovendo più su altri progetti. Ho un po' abbassato le mie aspettative su EOS, ma un 200 EOS su un cavallo del genere, visto il potenziale di quanto hanno raccolto e di quanto potrebbero ancora sviluppare, vorrei comunque averne. Sullo stesso concetto, quindi basandoci su piattaforme per costruire, per sviluppare, vediamo che tante, anche legate da DeFi, stanno muovendo. So che qualcuno si dispiacerà perché non inserisco, ma qui non ve la prendete a male. Considerate che questo non è il portafoglio che io ho, ma quello che farei da zero. E considerate che tante di quelle monete che sto saltando, io le ho nel mio portafoglio, ma non le metterei adesso per determinati motivi che ci metterei troppo a spiegare. Quindi non prendetevela a male se non nomino la vostra moneta. Perché io ad esempio ho anche Stellar, ovviamente. Ho anche Monero, ho anche Tron, ho anche Nio. Ma questo lo sapete. Ma al momento, Dash, sono partito con Dash, ma al momento, visto che devo fare una selezione e il budget è comunque quello che è, e le percentuali devono essere pensate bene, io punterei a questo punto su Atom, su Cosmos. Perché è un qualcosa di più nuovo, è qualcosa che però sta raccogliendo molto consenso a livello di sviluppo, è quello che conta al momento. Quindi si sta costruendo tanto su Cosmos, è ancora una capitalizzazione abbastanza piccola, diciamo che ha ancora un bel potenziale. Siamo arrivati qui a avere cifre più basse, che raccolgono una percentuale più piccola, una percentuale minore del portafoglio, in base a come l'abbiamo distribuito e come vi ho detto. Qui abbiamo un grafico che ci fa vedere, e viene costruito direttamente da Delta, se noi dovessimo costruire un portafoglio del genere, come sarebbe distribuito anche a livello grafico. Vedete che una grande fetta la prendono comunque BTC ed Ethereum, che insieme superano il 70%. E secondo me è giusto che sia così. Soprattutto si vuole partire con delle basi solide. Poi si può fare quello che si vuole, ma bisogna partire con delle basi solide. Poi abbiamo percentuali più basse, quindi 5% CRO in questo momento che è salito, un 3,69% su BNB, un 3,64% su Link, un 3,55% su Ada. Poi queste percentuali varieranno in base a come cambiano anche i prezzi, ovviamente. Ed ecco qui una visuale completa delle percentuali. Vedete che Atom, con quel poco più di 100€, 120€, adesso non ricordo neanche più bene, ma io non guardavo tanto il controvalore, guardavo il quantitativo in base alla Circulating Supply. Io non ragiono tanto in euro o in dollari, ma dovete sempre considerare capitalizzazione, quindi controvalore e Circulating Supply. E in questa percentuale arriva una percentuale sotto l'1% con Atom. Mi sono fermato perché graficamente sarebbe diventato complicato far vedere tutto qui, ma a questo punto che cosa farei? Solo in un secondo momento andrei a prendere delle monete, una volta che ho strutturato questo portafoglio, per fare delle scommesse con dei ritorni asimmetrici. Perché? Perché se abbiamo una piccolo quantitativo su una moneta dal potenziale molto alto, noi non abbiamo bisogno di rischiare tanto per guadagnare tanto. Possiamo rischiare poco e guadagnare tanto. Allora a quel punto, se mettiamo tutto il nostro budget su una moneta ad alto rischio, siamo dei pazzi. Perché? Perché già il settore è rischioso. E non ne vale la pena. Dovremmo essere talmente tanto bravi e non basta la bravura, bisogna anche avere la fortuna, perché magari si sceglie quel progetto che ha la migliore idea, il migliore team, il migliore tutto, poi tra di loro il team litiga, oppure si scopre che dentro c'era uno scammer e a quel punto finisce tutto quanto. Quindi bisogna comunque avere una diversificazione che è fondamentale e andare magari a puntare su quelle monete da alto potenziale mettendo qualcosina. Quel qualcosina potrebbe diventare una fortuna in futuro, e non c'è bisogno di esagerare. Quindi io direi che sotto l'1% del portafoglio si può cominciare a distribuire su quei progetti che hanno alto potenziale asimmetrico, dove anche quei 100 euro potrebbero diventare, perché no, 10.000 euro tra due anni. E allora, tra questi progetti, andando a scalare, ci sono diversi progetti che già 100 euro varrebbe la pena pensarli. 100, 100 euro, 100 dollari. Ad esempio, progetti come Ontology, che vedete hanno anche un controvalore basso. Progetti come BAT, che costruisce grazie al suo browser. Progetti come Zillica, Zill, 0x, tutti quei progetti legati alla DeFi che stanno costruendo meglio. Quindi 0x, Kyber, Synthetix, anche Teta. Non c'è tra nulla con la DeFi, ma Teta è un progetto da tenere sott'occhio. Abbiamo Algorand, Icon, Verge, e più in alto mi sono dimenticato di menzionare VeChain con VET. Anche qui, un centinaio di dollari dopo che si è costruito il portafoglio è quasi d'obbligo. Engine, legato al settore dei videogiochi. Ravencoin, Aave con LAND, quindi sempre DeFi, uno dei progetti che sta crescendo di più. REN, ne sentiremo tanto parlare, per portare Bitcoin su Blockchain Ethereum, in modo decentralizzato. Loopring, sempre legato alla DeFi. SwissBorg, che sta crescendo tantissimo, che consente di avere uno scambio, un trading a fee zero, con app e exchange. Status, che vedrete come potrebbe crescere se prenderà piede un sistema di messaggistica su Blockchain. Eventualmente altri progetti che potrebbero piacere, so che piace tanto Electronium, io ne ho qualcosa dal passato. Non mi fa impazzire onestamente, ma potrebbe essere un'idea. Chiliz, se credete che il mondo del calcio potrebbe entrare e essere tokenizzato in modo massivo. Insomma, qual è l'idea? Differenziare tanto, con percentuali più piccole. Il portafoglio grosso è piazzato. Quello ci garantisce una sorta di mix tra futura crescita, se il settore cresce, passive income, e poi abbiamo le nostre hidden gems, quelle gemme dal potenziale alto, cui basta puntare poco per ottenere tanto. E a quel punto potremmo poi, se queste crescono tanto, pensare di convertire magari in Bitcoin, in Ethereum, per sostenerci meglio, soprattutto in fase poi in cui all'orizzonte si potrebbe presentare nuovamente un bear market. Perché i cicli sono questi? Bull market, bear market, non si salirà per sempre. E in una fase in cui si rinizierà a scendere, meglio avere Bitcoin che le Alcoin, che svalutano tantissimo, soprattutto su quei progetti che a un certo punto si fermeranno e se non hanno sviluppato subiranno i cali più grandi, proprio come sono cresciuti. Giusto per darvi un'idea di quello che è successo in 2017, perché mettere 100 dollari qualcuno penserebbe che sia nulla. Ho ristretto questa finestra temporale, questo è Ethereum. Questa finestra va dal 2016 al 2018 circa. Nel 2016, se voi avreste preso Ethereum, bene, Ether, il singolo Ether, stava attorno ai 10 dollari. Guardate qui, il prezzo di Ether valiva anche 7-8 dollari. Io me lo ricordo benissimo, un centinaio di dollari su Ether si potevano acquistare, con un centinaio di dollari, si potevano acquistare più di 10 Ether. Bene, 10 Ether, al culmine della Burran, sarebbero valsi, più di 13.000 dollari. Quindi, in un solo anno, andando a mettere 100 dollari, solo 100 dollari su Ether, si avrebbe avuto un ritorno superiore ai 10.000 dollari. Questo è il potenziale che si ha se si sceglie bene e questo è un ritorno asimmetrico. Due brevissime cose in chiusura di questo video. Se proprio non vi convince l'idea di avere e partire prima con un Bitcoin intero, 32 Ethereum interi, perché sono cifre comunque considerevoli, cosa che io comunque consiglierei prima di diversificare, bene, a quel punto si potrebbe valutare una percentuale di esse. Ossia, ok, non riesco ad arrivare a un Bitcoin intero, però vorrei cominciare ad investire su delle altcoin dal potenziale alto. Beh, si potrebbe mettere qualcosa e distribuire il portfolio in percentuale. Quindi, se pensiamo che possiamo avere massimo 0.1 Bitcoin, quindi 10 volte meno, allora dovremmo mettere 10 volte meno anche sulle altcoin. Se io parlavo di 100 dollari in un altcoin promettente, probabilmente ci dovremmo mettere 10 dollari, perché le proporzioni, secondo me, per avere un bel portfolio, devono rimanere invariate. Anche con 10 dollari su un altcoin completamente sconosciuta dall'esplosività elevata, possiamo avere un ritorno elevato. Ovviamente dipende sempre dal budget che si ama, il portfolio va costruito in modo sensato. Vi sto parlando di qualcosa che viene dall'esperienza, magari avessi avuto una guida nel 2016 di questo tipo, probabilmente avrei fatto tanti ma tanti soldi, o tante ma tante cripto o satoshi o Bitcoin. Secondo spunto con cui voglio chiudere questo video, io adotto questo tipo di strategia. Non è una strategia che adottano tutti quanti, questa è una mia idea che ho costruito nel tempo. So per esempio che Filippo Angeloni adotta un'altra strategia. Lui ad esempio adesso ha deciso di andare all-in su Bitcoin. Magari non lo farà per sempre, ma in questa fase storica lui preferisce così. E anche io ho i miei dubbi su questo tipo di strategia e voglio chiedergli alcune cose. Voglio confrontarmi con lui e soprattutto anche confrontarci su come stiamo cercando di costruire questi portafogli. Quindi come stiamo accumulando. Ne parleremo questa sera in una live con tanto spazio alle vostre domande. Quindi questa sera ore 21 e 30, parlo del 17 giugno, ore 21 e 30, canale CoinSquare. Vi lascio il link anch'esso in descrizione. Ah, ultimo spunto. Se volete poi investire in ICO, quindi su progetti che ancora non sono lanciati, quello è proprio un budget a parte che non rientra in questo tipo di portfolio. Lì sono delle scommesse se vogliamo. Sono degli investimenti come quando si investe in una startup. Grazie ancora, ci vediamo questa sera alla live per tutte le domande. E date uno sguardo alla campagna Indiegogo di Engrave. Probabilmente sta arrivando il miglior hardware wallet del settore. Grazie ancora.